La misericordia del Signore per ogni essere vivente è il titolo dell'appuntamento di preghiera e riflessione promosso dal Vescovo della Diocesi di Nocera Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice e dall'Ufficio Diocesano della Custodia del Creato in occasione della Giornata Mondiale per la Cura del Creato, in comunione con tutta la Chiesa Cattolica e quella ortodossa. L'appuntamento, che si terrà questa sera alle ore 20 presso la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, si inserisce nella Giornata per la Custodia del Creato che ha il suo undicesimo appuntamento. Per la prima volta vogliamo abbracciare l'invito del Papa che a livello mondiale ha voluto in comunione con la Chiesa ortodossa promuovere un momento di riflessione e preghiera sulla cura del creato. Questa iniziativa si innesta già in una tradizione decennale della Conferenza Episcopale Italiana che è all'undicesimo anno, proprio la Giornata per la Custodia del Creato. Anche noi come diocesi vogliamo partecipare a questo momento ecumenico e anche spirituale con la Chiesa associando alla preghiera un momento di riflessione che guardi con attenzione alle tematiche dell'ecologia e anche alle tematiche del lavoro eticamente fondato e che abbia un impatto ecologico irrilevante e quindi che sia ecologicamente positivo. L'appuntamento è per stasera, le ore 20, nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in Angri.